Ciao e benvenuti a Blue Monkey Languages. Oggi faremo un quiz basandoci su quello che abbiamo imparato fino adesso. Vedremo il profilo di Marcello e poi faremo delle domande. Iniziamo. Ciao, io sono Marcello. Ho 20 anni e sono italiano. Mio padre si chiama Antonio. Ha 58 anni ed è americano. Mia madre si chiama Lucia. Ha 60 anni ed è italiana. Ho 5 fratelli e una sorella più piccoli e ho anche due sorelle e un fratello più grandi. Ho tre zii, due zie, sette cugini e sei cugine. Rivediamo un'altra volta il profilo di Marcello. Ciao, sono Marcello, ho 20 anni e sono italiano. Mio padre Antonio ha 58 anni ed è americano. Mia madre Lucia ha 60 anni ed è italiana. Ho 5 fratelli e una sorella più piccoli e ho due sorelle e un fratello più grandi. Ho 3 zii e due zie, ho 7 cugini e 6 cugine. Benissimo, ora facciamo qualche domanda. Quanti anni ha Marcello? Di che nazionalità è il padre di Marcello? Come si chiama la madre di Marcello? Quanti fratelli più piccoli ha Marcello? Quante sorelle in totale ha Marcello? Quante zie ha Marcello? E quanti cugini ha Marcello? Benissimo, bravissimi. Ricordatevi di ascoltare questo video, di guardare questo video almeno due volte, vedere il profilo e poi rispondere alle domande. Troverete le risposte nel link sotto questo video. Grazie per seguirci e ci vediamo la prossima settimana. Ciao! 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 Grazie.